è un fatto comunque che questa paura generalizzata ha dei contraccolpi di natura economica stiamo cercando di raccontarli da tutti i punti di vista lo facciamo anche adesso con Francesco Grillo che è ospite del nostro studio a Roma esperto di politica economica, collabora con la Oxford University e con la University of Business di Pechino benvenuto, grazie per essere in nostra compagnia e per aiutarci a fare un po' di chiarezza su questo impatto poco fa la collega Mariangela Pira ci ha mostrato un'ultima stima fatta dal centro studi di Prometeia in cui si parla di un PIL, tanto per capirci, del nostro paese previsto a meno 0,3% rispetto alle previsioni precedenti che sostanzialmente erano vicine allo zero. Che opinione ha in proposito? Buongiorno, allora intanto è molto probabile che avremo una recessione tecnica perché in realtà l'ultimo trimestre del 2019 per l'Italia era già negativo e questo trimestre che si chiuderà alla fine del mese di marzo inesorabilmente quasi certamente sarà negativo, quindi avremo una recessione. Tra l'altro non va bene nemmeno a livello globale perché proprio ieri venivano diffusi i dati di previsione lo faceva Moody's che è una società di rating internazionale a livello globale anche lì è previsto un impatto negativo, cioè non è un problema solo italiano ovviamente? Non è un problema solo italiano, rallenta ovviamente la Cina la Cina che tendenzialmente fa un terzo della crescita del prodotto interno lordo a livello globale quindi questo ha un impatto molto forte. Devo dire che probabilmente la Cina uscirà da questa difficoltà più velocemente dell'Italia perché ha un enorme mercato interno, le esportazioni per la Cina pesano più o meno il 13% del prodotto interno lordo, per l'Italia invece siamo al di sopra del 30% quindi un rallentamento dell'economia globale ancora di più rallenta l'economia italiana per avere un'idea in questo momento il prodotto interno lordo in Lombardia la Lombardia fa il 21% del prodotto interno lordo dell'Italia in questo momento la Lombardia sta andando ad una velocità che è almeno del 10% inferiore alla velocità che dovrebbe avere in questo periodo dell'anno è come una Ferrari che fa col freno a mano tirata diciamo sì assolutamente, quindi dipende molto anche da quanto tempo dura questa difficoltà ci sono dei settori che reagiranno quasi certamente a meno che questa difficoltà non duri troppo parlo soprattutto del manufacturing, quindi tutta la parte di fornitura anche rispetto all'industria manufatturiera tedesca mentre ci sono altri settori nei quali il danno rischia di essere più permanente e al primo posto forse c'è il turismo ovviamente dal che si spiega perché questa serie di appelli che abbiamo rilevato anche proprio nelle ultime ore a partire dal primo del sindaco di Milano a cercare di rialzare la testa, di tornare alla normalità insomma dipende anche da valutazioni sull'impatto negativo che si ha poi sia sui consumi perché è chiaro che in questa situazione di paura generale le persone non spendono, smettono di comprare sia dal punto di vista della produzione che ci sono delle situazioni bloccate pensate soltanto al caso della zona rossa dove le imprese in questo momento sono di fatto ferme? Sì, probabilmente è più serio l'impatto sulla produzione che l'impatto sui consumi perché sui consumi ci possono essere anche degli effetti paradossali probabilmente in questi giorni nei supermercati si è registrato invece un picco di consumi per comportamenti anche essi abbastanza irrazionali mentre per quanto riguarda la produzione chiaramente ci sono delle fabbriche che sono completamente ferme e poi c'è Milano che comunque è il cervello il centro strategico dell'economia nazionale che è quasi immobile questa settimana e la prossima Le faccio una domanda da una prospettiva un po' più ampia volevo chiederle una cosa che attiene anche un po' se vogliamo all'aspetto culturale dei rapporti tra paesi diversi, tra mondi produttivi diversi quello che è capitato soprattutto all'inizio quando l'emergenza riguardava soprattutto la Cina ha fatto capire come sostanzialmente qui le aziende di mezzo mondo anzi anche di tutto il mondo sono dipendenti in modo esagerato dalla produzione che arriva dalla Cina probabilmente, anzi sicuramente per ragioni di costi quindi è successo che quando si è bloccata in qualche modo la produzione in Cina è andato in crisi tutto il sistema produttivo a livello globale non è che questa esperienza fa ripensare questo aspetto e magari ci sveglieremo poi e capiremo che affidare tutta la produzione di tutto il mondo ai cinesi può essere pericoloso? Diciamo che le catene di generazione del valore sono molto lunghe e possono spezzarsi in vari pezzi non soltanto in Cina direi che tra l'altro la Cina è così importante non tanto più per fattori di costo ma per fattori di innovazione tecnologica tutti gli iPhone della Apple, quasi tutti, sono prodotti in Cina io però credo che per rispondere alla sua domanda questo è un fenomeno che sta già avvenendo e viene accelerato cioè ci sarà un accorciamento delle catene produttive questo è già una conseguenza di innovazioni tecnologiche molto importanti come la stampante a 3D che sostanzialmente fa saltare per aria il concetto stesso di catena di montaggio è un processo che ad esempio le imprese tedesche hanno penso alla Siemens ad esempio hanno intrapreso da un po' di tempo quindi c'è un insuring che è il contrario di quello che è avvenuto negli anni quindi è una globalizzazione di tipo diverso che sta emergendo con tutta... Le faccio un'ultima domanda abbiamo proprio 20 secondi che ci restano per il nostro tempo quando possiamo dirci secondo il suo osservatorio fuori da quest'onda lunga di batosta economica che stiamo subendo secondo lei, l'estate? No, secondo me prima allora la notizia positiva che viene oggi dalla Cina è che abbiamo superato il picco cioè il numero di guarigioni è superiore questo peraltro già da qualche giorno al numero di casi nuovi quindi diciamo l'emergenza vera è cominciata in Cina più o meno a metà gennaio siamo alla fine di febbraio diciamo che presumibilmente considerando anche che abbiamo il vantaggio di conoscenza che la Cina ci dà quindi dovremmo utilizzare alcuni dei loro protocolli dovremmo essere fuori nel giro di qualche settimana io direi dobbiamo grazie a tutti